Intervenire? Ah, onorevole Zuccoi, non l'avevo vista. Grazie Presidente, anche il gruppo di Fratelli d'Italia si unisce alle congratulazioni al professor Parisi per questo premio Nobel per la fisica e ancora una volta riconosciamo dunque le eccellenze italiane nel settore della ricerca. Il professor Parisi crediamo che coroni con questo una grande carriera sottolineando ancora una volta l'esigenza però di valorizzare i talenti cosa che il nostro sistema generale soprattutto nel settore della ricerca non fa. Il professor Parisi insieme ai colleghi Manabe e Hasselman arriva tra l'altro a una certa età questo riconoscimento che gli era dovuto però non ci dobbiamo scontrare i tanti giovani ricercatori che spesso si vedono precludere risultati in Italia. Quindi di nuovo auguri e congratulazioni al professor Parisi. Grazie.